Le aziende sanitarie ogni giorno sono chiamate a gestire i bisogni complessi delle fasce più fragili della popolazione. Bisognose di accedere in modo rapido ai servizi sociosanitari. Resetta Mipua distrettuale è la prima piattaforma informatica che integra le associazioni dei distretti sociosanitari e degli ambiti sociali territoriali e assicura in modo istantaneo la presa in carico di ogni singolo assistito. Resetta Mipua distrettuale semplifica anche in smart working le procedure di valutazione multidimensionale dell'assistito e la pianificazione dei percorsi assistenziali individuali. In questo modo il cittadino può beneficiare di un'assistenza sicura, rapida ed efficace. Resetta Mipua distrettuale, la risposta unica ai bisogni del cittadino.